Pestaggi, umiliazioni, atti di sadismo, giovani immigrati presi a calci, costretti a strisciare sul pavimento, presi di mira con getti di spray urticante. Quasi sempre stranieri e senza tetto le vittime dei cinque agenti in servizio alle volanti della questura di Verona, arrestati alla fine di un'indagine partita da una serie di intercettazioni shock. Al telefono, parlando con i colleghi, in un caso con una fidanzata, i poliziotti ridacchiavano, compiaciuti delle loro violenze, di quelli che la stessa questura veronese ha definito atti gravemente lesivi della dignità delle persone sottoposte ad accertamenti. Le accuse sono senz'altro gravi e non ci siamo sottratti ai nostri obblighi. La Polizia di Stato ha dimostrato di voler ancora una volta affermare i propri valori di trasparenza che ci derivano dalla nostra storia. I poliziotti arrestati ai domiciliari dovranno rispondere di accuse che vanno dal reato di tortura a quelli di lesioni, falso, omissioni, peculato, abuso d'ufficio. Coinvolti anche altri 18 agenti delle volanti colpevoli di non aver impedito o denunciato le violenze dei colleghi. Le indagini, su mandato della Procura, sono state condotte dalla squadra mobile Scaligera. Questa vicenda, ripete il questore Roberto Massucci, dimostra come la Polizia non sia disposta a macchiare la propria reputazione né con la reticenza né con la poca trasparenza. Tutte le persone coinvolte o potenzialmente coinvolte nell'indagine sono state rimosse al termine delle indagini che si sono concluse poco più di due mesi fa.